Oggi, primo ottobre, continuiamo la passeggiata che avevamo fatto a maggio con il professor Filippo Travallini, partendo dall'inizio del corso e arrivando fin qui, in questo punto. Allora, professore, qui cosa c'era? Continuando il discorso che avevamo iniziato l'altra volta, noi ci eravamo fermati qua su questa linea, questa linea rappresenta la linea di confine tra i due quartieri tradizionali di Casoli, il Quartaballo e lo Quartamondo. Il Quartamondo comincia da qua, idealmente, così, e comprende tutta la parte ormai chiamata zona storica di Casoli. Il Quartamondo, così detto, è molto ricco di negozi, di attività, di uffici, perché tutta la parte, diciamo, a quei tempi, negli anni, io parlo, ripeto, sempre negli anni 30 e 40, tutta la popolazione era raccolta nella zona alta del paese, la zona in piano, quella sotto, quella cosiddetta Quartaballo, era non spopolato ma quasi, c'erano pochi edifici, solo alcune case, per cui tutti gli uffici stavano tutti allocati qui, nella parte alta del paese. Uno, per esempio, il primo che mi viene in mente è questo qui sulla destra, era l'ufficio postale, prima della costruzione del nuovo ufficio postale su in Piazza del Popolo, l'ufficio postale stava qui, era, la casa è stata rifatta, però era un camerone grosso, c'erano due impiegati solamente, Gennaro, Gennarini, il padre del dottor Caracino, e il nonno che era il direttore, e più una signorina, signorina Tina di Mito, che era una signorina tutta, ci teneva al suo aspetto, quindi per quei tempi si truccava, era molto gentile, per la verità, e quindi queste, io penso che allora gli uffici postali non erano nemmeno parastatali come adesso, molto probabilmente, non so se sbaglio, l'attività dell'ufficio postale veniva data in gestione dallo Stato, mediante delle gare a delle società, difatti il nonno o il bisnonno dell'attuale ed è originario di Isernia, erano venuti qua forse perché proprio avevano vinto questo concorso per la gestione dell'ufficio postale, è sintomatico solo questo e basta per l'ufficio postale, l'ufficio postale svolgeva un'attività notevolmente inferiore a quella che svolge adesso, tutto si limitava a qualche maglia postale, qualche raccomandata, cose di questo genere, c'erano solo già i titoli postali, ma allora l'attività, le persone che avevano soldi da investire, persone di questo tipo ce n'erano pochissime. Quello che mi ritorna in mente come cosa caratteristica, nell'ufficio postale di solito stazionavano sempre due persone pronte per avallare le firme come testimoni di quelli che non sapevano leggere e ce n'erano tanti, dove si pensi che in quel periodo a caso il 60-70% era in alfabeto, quindi firmavano con la croce, però per legge questa croce doveva essere avallata da due testimoni. Non sempre questi testimoni si trovavano, allora questi erano fissi là a mettere la firma dietro un compenso minimo. Uno era proprio il padre della Tina, era un sarto molto di mito, Pietro di mito, il quale era un po' etastro pure, dialettale, tanto quando beveva specialmente parlava in versi, come già per esempio io sono Pietro di mito, che quando beve mai in vita e più bicchieri ingoglia e più gliene viene voglia e quindi suscitava anche una certa hilarità. E qui invece cosa c'era? C'era un regozio di generale alimentare, come adesso, era di Casimiro Rosato, il padre di Ismaele, quello che è morto proprio pochi giorni fa. Subito dopo, là dove c'è quella finestra, c'era una macelleria, pure buona, una macelleria porreca. E in quest'altro negozio che c'era? C'erano oggetti casalinghi, ferramenta, era Zammacizia si chiamava, era una brava persona. La figlia si chiamava Rosetta, è morta poco tempo fa, perché poi si era sposata a Guardia Grela, ma era tornata qui a casa, è morta invece un anno fa, non di più. Qui invece ci stava prima il negozio di tessuti di Adalgisa, anzi veramente il padre ce l'aveva, che poi era rimasta da Adalgisa, e poi c'era stato il fotografico, il tipografo. Qui c'era prima il negozio di barbiere del padre di Giacomino, si chiamava, poi questo ha tolto la sedia di lavoro, era diventato il giornalaio, vendeva anche degli articoli per bambini, giocattoli, questa attività qua. E avvolgeva una buona attività, che era anche punto di incontro qua, perché Giacomino era uno che riusciva a tenere in vita una buona clientela. Quello che è il negozio più importante proprio in questo punto era dove vengono queste due porte, che in una, questa qui, c'era il negozio di scarpe di Ernesto De Petra, cioè il padre della professoressa De Petra, che è morta poco tempo fa, era tenuto pure dal figlio Carlo De Petra, qua, il negozio di scarpe. A fianco là, questo è importante, importante ricordare, c'era il negozio di cappelli, che adesso non esiste più a caso, perché allora si usava molto il cappello, tutti gli uomini compravano il cappello, ricordo pure certi nomi, Borsalino si chiamava, eccetera. E qua si racconta, perché Carlo, il figlio specialmente, aveva una voce grossa, era anche un tipo volitivo, energico, dice che una volta stava, non so se è vero o se è una barzelletta ripresa, dice che stava facendo misurare il cappello a uno che aveva una testa enorme. E allora Carlo dice, no, guarda che ho questo cappello, guarda che ti faccio un prezzo speciale, perché questo è l'unico esemplare che ho di questa misura, e tu sicuramente non ne troverai un cappello di questa misura in altri posti, e il cliente, e nemmeno tu troverai una testa di una misura della mia. che era, però era un negozio importante, perché a loro i cappelli si usavano molto, quindi era un'attività redditizia. Qui cosa c'è stata? Una macelleria, il titolare era Andrea di Giacomo, era il fratello di Domenico di Giacomo, quello che aveva il negozio di tessuto di sotto. E qui invece cosa c'era? Qua di fronte c'era, prima ancora, perché lei mi ha detto adesso di Zammarnacolo, prima di Zammarnacolo c'era un negozio, un grosso negozio di tessuti, era tenuto da un originario di Farasan Martino, che è il Tavani, si chiamava. Mi ricordo questo particolare, perché forse era l'unico che aveva una radio, e la radio aveva un altoparlante qui sulla porta, quindi quando si facevano le cerimonie, quelle le loro politiche, i raduni, oppure lui metteva i discorsi, per esempio, di Mussolini, eccetera, dalla radio faceva, noi ragazzi eravamo affascinati da questo cono che usciva largandosi qua sulla porta, da cui veniva fuori musica, eccetera, questo Tavani, c'è pure qua da raccontare che aveva una figlia, Anna, vabbè, ma non è possibile, perché spesso, profitto di questa occasione, in queste passeggiate, dalla memoria, così, vengono fuori tanti episodi curiosi, e vorrei riproporli, perché il nostro intendimento non è di quello di fare storia, di la storia, chi vuole sapere la storia di Casoli, secondo proprio dei documenti, basta leggere tanti libri che sono stati ultimamente scritti, di Nicola Fiorentino, Rossezzi, quella trilogia, la storia di Casoli, chi quindi vuole notizie storicamente accertate deve rivolgersi a quella fonte. Noi, signora, noi facciamo solo una passeggiata, diciamo, di riminiscenza popolare, senza nessun intendimento di verità storica, quindi può darsi pure che qualche cosa non sia corrispondente alla realtà. Quindi dicevo, dopo di Tavani, qua, c'è stato Samar Nicola, che vende oggetti, quello che vende adesso per casa, perché poi, tutto sommato, da qua, Samar Nicola ha trasferito, e quindi, è delle attività che svolge adesso per casa. Questo portone è importante, perché? Qua c'era la Casa del Fascio, cioè la sede del Partito Nazionale Fascista di Casoli, cioè da qui partivano tutte le manifestazioni, qua c'erano dentro, qua, quando c'erano queste manifestazioni, come il sabato fascista, perché di solito il sabato fascista c'erano delle mani... oppure delle onoranze, delle ricorrenze politiche, no? Si facevano delle sfilate. Le sfilate partivano sempre qui, la Piazza del Popolo, perché però bisognava venire prima qui a prendere i vagliardetti, le divise dei viliti, eccetera, perché i viliti si vestivano. E ricordo un... Ricordo un milite particolare. Si chiamava... Si chiamava Sciumone. Come si chiamava? Sciumone. Sciumone. Quelli di una certa età, se lo ricordano o no, era un tipo, dall'attività indefinita, non so che cosa facesse. So solamente, forse faceva sicuramente il Becchino, il Camposanto, insieme ad altri, insieme a Coruai, ad altri. Era una figura tipica, sì, perché era difficile trovare un milite vestito di tutto punto, con la divisa, con un cappello, con un fiocco che gli scendeva sulle spalle, un moschetto, cioè un fucile più basso di quelli normali, a tracollo. Assumeva, in quelle occasioni, un aspetto, o voleva assumere, un aspetto guerriero. Questo suo atteggiamento contrastava con quello che faceva lui nella vita reale, perché era un povero Cristo, uno che doveva alzarsi la mattina per traccare di industriarsi, per trovare qualcosa da mettere a tavolo per la famiglia a mezzogiorno. Ce n'erano tanti poi di questi casi. Però, poi diceva questa attività di guardia, si chiamava allora, che poi quasi prendevano i cagliardetti. Il cagliardetto, poi c'erano due a fianco al cagliardetto, erano le cosette guardia al labbro. Qualcuno cambiava, l'alabbro deve finire al labbro, cioè nel senso che questi, magari, guardia al labbro c'era chi sparlava. Qua stavano i diversi segretari politici che si sono succeduti. Uno che io ricordo, che era impiegato poi comunale, chiamava Filippo Spinelli Ross, ma ce ne stavano anche altri, Taddeo Rinaldi, e penso pure il padre di Germano, il dottor De Cinque, che pure lui è stato segretario del partito fascista. Insomma, qua, questo era un punto centrale per quanto riguarda tutta l'attività del partito. Qua c'è una storia curiosa. L'attività di un calzolaio, si chiamava Violante, che poi si era trasferito là, successivamente, in quell'altro posto, ma prima stava qui. E, come ho detto pure in altre occasioni, di solito i lavoranti dei calzolaio erano un po' disadattati per motivi fisici, di solito, che aveva esisti di poliomelite, che aveva guai fisici proprio, che non consentiva loro di fare un'attività motoria. E quindi venivano indirizzati al mestiere di calzolaio. E qua ce n'erano quattro. Quando, alla fine di novembre, vennero dei tedeschi qua a reclutare uomini per i lavori da fare, a Pesco Costanza, dove stavano facendo una strada. E quindi, come si diceva allora, venivano a prendere gli uomini, a prendere tra virgolette, cioè li costringevano con i fucili ad andare a lavorare. Uno di questi, quella mattina che c'è stato poi il reclutamento, insomma, un soldato tedesco era arrivato qua, aveva aperto la porta, aveva visto quattro persone attorno al banchetto, di lavoro. E quindi pensava di aver fatto un bel colpo, che ne aveva presi quattro. Se non che, dice, com, com. E si alza il primo, che c'erano due stampelle, Nandino, si chiamava, Nandino Ciletum, si alza quello, allora fa uno, si alza un altro. E pure Tum, tutto sciancato. questo errore, si vede veramente, l'hanno raccontato, quelli che l'hanno vista, tutto arrabbiato, quasi alzato il fucil, come per dire, muovi faccio. Mi ammazzo tutti quanti, perché pensavo di aver fatto, chissà quale affare, invece, non aveva ottenuto nessun risultato. Piazza del Popolo, allora cosa ricorda? Piazza del Popolo, che era il centro del potere di Casoli, che qua ci sono le abitazioni, delle due famiglie, che hanno dominato, tutta la politica, la vita civile di Casoli, nella prima metà del Novecento, e anche nella seconda metà, per altri eredi, che hanno preso il bastone del comando, ricevendolo in eredità. Qua queste due famiglie, la famiglia Ricci a destra e la famiglia dei Cinque di fronte, sono state le famiglie che hanno determinato la vita politica, sociale di Casoli nel quasi tutto il Novecento, perché è vero che il barone Ricci è morto nel 1952, quindi l'ha dominato per i primi 50 anni. Poi c'è stata la famiglia dei Cinque, che aveva pure iniziato con il dottor... Sculabio che era forse? Ecco, Sculabio e poi Don Giorgio, che era stato potestà negli anni 40-30, alla fine degli anni 30, che è stato potestà, e quindi poi era passato tutto a Germano, che è stato onorevole senatore nei secondi 50 anni del 1900. Quindi questa era la piazza dove si svolgeva tutta la vita di Casoli, questo era il centro proprio. Tanto è vero che tutte le manifestazioni, per esempio, si facevano qua, su questa piazza, gli oratori, le manifestazioni stesse, venivano organizzate e poi gestite qua da tutti quelli... C'erano anche altri centri, per esempio, quel tabaccaio lì di fronte era di Ferdinando, Ferdinannino chiamavamo, ed era un autorevole uomo politico, perché quando si trattava di decidere qualcosa era in contatto continuo con Donna Marianne, che avrebbe la moglie di Don Giorgio, il padre di Germano, che aveva la farmacia lì a fianco, che aveva ereditate dalla sorella della donna Ernestina, che quella era una farmacia molto... molto... E molto frequentata, insomma. Molto frequentata, sì, molto frequentata. Poi qua, per esempio, sotto la casa di Baruflerici, c'era la sede del Banco di Napoli, che era l'unica banca che stava qui a Casoli, in quegli anni, ed era il Banco di Napoli, perché dipendeva sempre, era una succursale del Banco di Napoli, Banco di Napoli proprio. E qua ricordo benissimo questo Banco di Napoli, perché mio padre mi mandava a pagare le tratte commerciali, si pagava là. C'era, per esempio, io non ricordo preciso, il direttore era Taddeo, che ho detto che era stato pure il segretario del partito fascista, era il direttore, era rimasto qui. Cioè, non c'è stata una epurazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quelli che erano fascisti prima, rivestivano certi ruoli, certi incarichi, avevano certi posti di responsabilità, hanno continuato... Sono rimasti lì in quei posti. Pure dopo, specialmente qui a casa, è rimasto tutto tale e quale, come diceva il principe di Saline, tutto è cambiato per non cambiare niente, Tommaso dell'Ambenusa. E qua c'era, di fatto lui era il direttore, c'era davanti il cassiere, era il padre di Teresa, la moglie di Mario Borrella, che è morto tempo fa. Sì, sì, la maestra. La maestra. Il padre. E c'era un unico usciere. Buongiorno. Buongiorno. C'era un unico usciere, Alberto si chiamava. Quello che mi è rimasto impresso, che questo usciere, per esempio, vestiva un vestito blu, con bottoni dorati, qua al centro, la giacca a doppio petto, una plomb che è difficile adesso, nella banca attuale. C'è quasi il cassiere, tutti con le gravatte, con i vestiti. Cioè c'era anche una forma, che era da rispettare, e loro la rispettavano molti. Poi, qua a fianco, c'erano degli altri nevoli. Qua, per esempio, di fronte, vede questo che sembrava un buco. C'era una barberia, frequentatissima, frequentatissima. c'erano due sedie da lavoro e si andava qui dentro a chiacchierare, c'erano pure altre sedie. Qua a fianco c'era l'ufficio dell'AMGOT. L'AMGOT era l'amministrazione, l'amministrazione alleata per i territori occupati. Non so, era un acronimo, questo AMGOT, però associato, non so l'inglese. Ma comunque, era un'amministrazione tenuta dal, c'era un capitano, che era un, un, un tipo molto difficile, piuttosto cattivo, tant'è vero che, ricordo, ad un mio compagno, di età, un mio coetaneo, c'aveva un paio di scarpe inglesi ai piedi, quello lo fermo, lo fece togliere addirittura, perché, e stava lì l'ufficio. Qua poi ci sono succeduti tanti negozi, Capuzzi ha cominciato là, Capuzzi aveva cominciato con, con Monti, la confezione, perché allora non c'erano prima, infatti prima non c'era, ma c'era da quest'altro, a quest'altro punto, dove vedi queste porte, c'era un sarto, di chiara fama, Angelucci, no, Arcangelucci, Arcangelucci era, era il, il padre praticamente di, di, di Peppelucci Gentile, Gentile, quello che è stato, come si chiama, forse della facoltà di veterinari, a Bologna, insomma, veterinari, un merito, era il cognato, il cognato di Don Peppe Borrelle, e la moglie di questo, Arcangelucci, c'aveva un negozio qui, aveva un negozio di, di tessuti, e di altra cosa, questa, questa porta qua, questo, questo, non c'era, il tutto era aperto, noi mi ricordo da ragazzo, perché io sono stato, sfollato qua, a casa di, di mio zio, tutto il periodo, dal novembre 43, fino a giugno 44, che la casa mia, sotto, si era lesionata, con lo scoppio, della casa di Di Florio, eccetera, quindi sono stato qua, quindi vivevo qua, in quel periodo, qua sopra, noi ragazze andavamo a giocare, e qui di fronte, che c'era? C'era un negozio, di genere alimentare, il proprietario, il titolare, era Raffaele Spinelli, che era un mio zio, poi, il mio, il fratello di mia nonna, ed era un negozio, importantissimo, perché, raccoglieva la clientela, in tutto qua, in questo, quartiere, che era, era una clientela, molto, molto numerosa, e di fatti, l'attività, era un'attività, lui e la moglie, la moglie era, l'ama dei Peligni, si era dedicata, molto a questa attività, poi, i dieredi, sono quelli che c'hanno, gli spinelli sotto, vicino a Santa Le Parade, oltre a Santa, alla Fonda Barre, come si suol dire, e, qua, qua di fronte, siccome, come ho detto prima, io da ragazzo, quando ero 14, 15 anni, cioè alla fine del 43, 44, sono stato qua, ospite di questo mio zio, perché casa mia, era stata, rovinata, dallo scoppio, e, in quegli ultimi giorni, di, di novembre, quando eravamo rimasti soli, e c'era l'interregno, tra i tedeschi, e gli inglesi, si sono stati, alcuni giorni, stavamo solo, le cannonate, da una parte, dall'altra, qua, c'era, questo locale, se uno apre, sotto, c'è la roccia, proprio, è tutto chiuso, qua, era un ricovero, qua, dovevamo, appena cominciavano le cannonate, dovevamo, dovevamo correre, entro questo ricovero, e mi ricordo, un particolare, anche qua, quando cominciavano le cannonate, c'era qualcuno, che, attaccava il rosario, ah, il primo mistero, dovevessi congemmo, e cominciava, il rosario, ora, c'era un mio zio, il suo Vincenzo, il padre di Nicolina de Petra, no, che aveva, un difetto, insomma, si addormentava facilmente, in qualsiasi, allora, lui sentiva quel, rumore, quel cicalicì, tutto, ah, ah, quello ripetere, si addormentava, e cominciava a russare, in modo, in modo poco, insomma, disdicevole, per l'atmosfera, che si creava, allora, mia zia, mi dice, tu, metti di vicino, appena cominciai a russare, io avevo questo comito, appena cominciava a russare, la gomitata, la gomitata, per farlo smettere, dal, fine del, novembre, 43, gli ultimi giorni di novembre, fino ai primi giorni di dicembre, qua, Casoli, veniva, è stata coinvolta, in un cannoneggiamento, furioso, dai, gli inglesi, che sparavano, da, dalla piana sotto, da, altino, quella zona lì, e i tedeschi, che sparavano, da guardia greale, quindi, eravamo costretti, a stare sempre, ma, non per bombardamenti, non è che c'erano aeree, ne aeree, ne abbiamo visti pochissimo qua, noi a Casoli, poco, 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 solo una volta, ma, questo è successo prima, d'agosto, nel 43, ci fu il bombardamento di Sulmona, e quindi, un duello aereo, qui sopra a casa, fu abbattuto, un aereo, e, un pilota, americano, scese con il paracadute, fu preso da carabinieri, e portato alla caserma, mi ricordo, andammo là sotto, a vedere questo, ma, allora, eravamo ancora in guerra, con, non c'era stato ancora l'armistizio, se no, quest'altro periodo, quello, è stato un periodo, difficile, per le cannonate, le cannonate, arrivavano, tutti, da parte, anche dopo, i tedeschi, sparavano sempre, da guardia greca, fatto strano, sparavano sempre, alle due, le tre del pomeriggio, un'oretta, e poi smettevano, noi eravamo talmente abituati, i ragazzi, per esempio, per andare al campo sportivo, sapevamo che a quell'ora, eravamo pure abituati, eravate preparati, certo, preparati, capivamo pure ormai, perché sentivamo pure il colpo, in parte, e poi, boom, e un'altra volta, quando ci fu una processione, di venerdì santo, del 44, proprio qua, davanti, al bar sotto, sì, questa processione, sfidava, con, il pubblico, in fila, come si faceva allora, allora le processioni, erano sentite, quindi c'era molta partecipazione, specialmente in quel periodo, di difficoltà, la gente si rivolgeva molto, diciamo, all'anima, cioè, metteva in luce, l'anima religiosa, anche, nella speranza, di un aiuto, un aiuto, sia, fisico, che, così, morale, e, quando ci fu questa processione, è descritto benissimo da, da un mio amico, il professor Alberto del Pizzo, in un racconto, ha scritto proprio questo, che, mentre, questa, procedeva, questa processione, ci fu, sopra, un duello aereo, adesso è stato ricostruito, quindi, po 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 po, tutta la gente via, fuori, lasciarono il Cristo, e la Madonna, la Madonna, ferma, là davanti, all'ufficio postale attuale, proprio là, in quel punto, tutti a rifugiarsi nelle case, eccetera, eccetera, e, quando, il tutto finì, in brevissimo tempo, andarono là, trovarono ai piedi della Madonna, Ciudbert Cucù, che era, una figura tipica, che ha meritato, per esempio, anche là, una descrizione, da parte di Alberto, ma era, era un tipo, era fisicamente, in ordine, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, disabile mentalmente, disabile mentalmente, tanto è vero, che noi ragazzi, dici, Ciudbert Cucù, Ciudbert Cucù, diciamo, sai come allora, i ragazzi erano come adesso, non c'era questa cultura, del rispetto, niente, bisognava divertirsi, cioè, e questo, questo raccontava sempre, dice, raccontaci, e lui cominciava, io sono il figlio della Madonna, sono stato congepito, e trattava tutta una storia, però, siccome parlava male, non si capiva niente, se uno veniva solo fuori un tumore, a un certo punto cominciava a piangere, aveva degli occhi, ci sposi, una divisa, forse aveva fatto il militare, ma il militare, nel 1900, forse, quindi con l'esercito, il primo esercito italiano, perché aveva una bustina, ancora militare, in testa, e, ritornando alla processione, trovarono lui solamente accucciato sotto la statua della Madonna, e l'unico che non era andato via, che non aveva abbandonato la statua della Madonna, quello per esempio è un episodio eclatante, di aerei, perché di aerei qua, non ne abbiamo visti molti, durante quel periodo, subito dopo c'era Varcaro, là facevamo il falegname, qua c'era così, noi chiamavamo il telefono, cioè l'ufficio, dove, chi doveva, o che i telefoni non erano così diffusi come adesso, nessuno aveva il telefono, nemmeno a casa, forse i telefoni a casa, forse ce li avevano a casa, 5 o 6, non di più, uno mi ricordo che ce li aveva mio nonno, perché aveva un'attività di trasporto, di commercio, ed era un grosso appareccio, si attaccava alla parete addirittura, bisognava girare una manovella per caricarla, pronto, eccetera, invece chi doveva parlare per telefono con qualcuno, doveva venire qua, la telefonata si svolgeva così, io per esempio dovevo chiamare uno a Lanciano, venivo, davo l'indirizzo, il nome, il cognome, l'indirizzo di Lanciano, la signorina, allora si chiamava, sì ma era una signora, che era quella che aveva il ruolo di telefonista, vedo che si chiamasse Giuseppina, credo, ma comunque era la mamma di Domenico di Florio, che stava qua, e quindi uno veniva, gli dava il nome, cognome, e l'indirizzo di chi, con chi voleva parlare, a Lanciano, da Lanciano arrivava una comunicazione, per esempio successiva, alle ore 18, se stavi a casa, e ricevevi una telefonata, la signora che stava qui, faceva un bigliettino verde, me lo ricordo, dava questo bigliettino, una signora che abitava qua, si chiamava Zahib, questo che faceva tante cose, arrangiava, portava, si portava il bigliettino, c'era l'appuntamento, alle ore 14, uno allora veniva, alle ore 14, qua, aspettava, c'era come un salottino davanti, e parlava con l'altro, che era stato a sua volta, convocato a Lanciano. E qui invece cosa c'era? Qua c'era un sarto, un sarto era il suocero di Barcaro, cioè il padre della moglie di Barcaro, un buon sarto che volgeva una sua attività notevole. Qua siamo a Via Municipio, si chiamava prima, ma adesso si chiama Via Roma, ma Via Municipio, perché in fondo, poi lo vediamo, c'era la casa comunale, ma si chiamava Municipio Comune, non era un termine in uso, no, il Municipio, che del resto è un termine antico, è quasi medievale, ha il sapore medievale, questo termine Municipio, perché ha un senso più largo del comune, cioè il Municipio è chi fa parte di una certa struttura, anche oltre che umana, anche una struttura amministrativa, eccetera, quindi si chiamava. Questo invece, questo posto, vede c'era l'insegna, c'era una barberia, il barbiere era il padre di Giancarlo Barra, il padre, ed era una barberia, anche questa molto attiva, perché, ripeto, la gente prima era concentrata in questa, qua c'era, qua per esempio, su questa, dove stiamo, o su questo tratto di, di la villa, la chiamavamo allora, era, pollulava di ragazzi, che giocavano a palla, gente che, che passava, che andava a comprare, c'era una vita frenetica, adesso non si vede nessuno, non si vede una vita, ma allora, la vita era veramente, pulsava proprio, in modo, in modo frenetico, questo è il termine esatto, e qua, qua c'era un calzolaio, in genzo si chiamava, questa è la casa di Orsatti, della famiglia Orsatti, che erano, tre fratelli, anche questi forse erano di origine, di Fara San Martino, il primo era Achille, che era impiegato all'ufficio del registro, qui, ed era quello che dominava, forse all'interno della famiglia, il secondo, aveva avuto un problema lagone ultimamente, parlava con difficoltà, ed era quello che provvedeva, a mandare avanti un negozio, che loro avevano in piazza, in piazza del popolo, dove vendevano anche la giornale, giocattoli, un negozio molto avviato, ed era gestito, per lo più, dal secondo, dei fratelli, i primi due non erano sposati, il terzo, invece, si era sposato poi, e si era trasferito sotto, a piazza, davanti a San Rocco, a piazza San Rocco, un belone piazza San Rocco, piazza Umberto I, no, che si chiama. Grazie.